Per chi cerca lavoro, vuole cambiarlo o desidera farsi notare dal qualche direttore del personale, i social network potrebbero essere un'ottima vetrina ma anche un'inaspettata trappola. Le imprese che utilizzano i social per pubblicare offerte di lavoro e per trovare candidati sono sempre di più. Quindi occhio agli errori. Alcuni utili consigli arrivano da Reputation Manager, società leader che si occupa dell'analisi della reputazione online di privati e di brand. Tra i consigli su come gestire i social emergono quelli relativi alla scelta delle foto da pubblicare. La foto è il nostro biglietto da visita e quindi meglio non pubblicare immagini inappropriate e lontane dal nostro settore di competenza. Se il tuo curriculum ti ritrae in giacca e cravatta e su Facebook sei in canottiere e coperto di tatuaggi, chi sta valutando la tua candidatura potrebbe pensare che tu non stia raccontando chi sei veramente. Importante puoi scegliere il livello di privacy del proprio social, ovvero se lasciare il proprio profilo visibile a tutti o con delle restrizioni. Attenzione anche ai commenti, i cosiddetti post. Quello che scrivi racconta chi sei e quindi un post sbagliato potrebbe non fare una buona impressione. Mai pubblicare frasi come viva il venerdì o solo fotografie in costume. Infine, attenzione agli omonimi. Se pubblichi video o foto su quello che sai fare e ne parli nei tuoi post, sarà più facile per i probabili datori di lavoro non fare confusione con chi ha il tuo stesso nome ma fa tutt'altro nella vita.